Lo sai perché questo canale non diventerà mai popolare? Perché non solo parlo di libri spesso poco conosciuti, però mi piacciono, che vuoi farci. Ma perché cerco di recensire libri introvabili o quasi. L'ho fatto in passato con L'amore dell'ultimo milionario di Francis Scott Fitzgerald, edito dalla casa editrice Alet, che non esiste più. Eccolo Oggi parlerò del romanzo Miele, dello scrittore svedese Thorny Lindgren. La traduzione è di Carmine Giorgetti Cima. La casa editrice è Giano, assorbita da Neri Pozza. Sul sito è introvabile, mi pare che esista solo su Amazon. Thorny Lindgren non è molto popolare nel nostro paese, che ha scoperto la letteratura del nord Europa, solo di recente e grazie alla benemerita casa editrice di Preborea. Che romanzo è questo? Miele! Una scrittrice, di cui non si saprà mai né nome né sembianze, gira alla Svezia per tenere conferenze sulle vite dei Santi. Nel suo girovagare finisce in uno sperduto villaggio nel nord del paese, e terminata la conferenza, un vecchio si offre di ospitarla a casa sua. È malato, in procinto di morire. E odia suo fratello, anche lui prossimo alla morte, che abita una casa poco lontana dalla sua. Ed ha costui e ricambiato della stessa moneta. L'odio. In questo paesaggio statico, dove ciascuno dei due attende che sia l'altro a tirare le cuoia per primo, la donna è l'unico elemento che crea azione, scuote l'atmosfera che avvolge quel luogo. Invece di andarsene, resta. Perché durante la notte ha nevicato, certo. Ma anche quando lo spazzaneve libererà la strada, lei sceglierà di restare. Nei libri di Lindgren, nessuno viaggia o compie imprese spedicolate o mirabolanti. L'unico movimento che si registra in questo libro è l'andirvieni della donna da un'ambitazione all'altra. La vera azione è affidata a tutta la parola, alla riflessione. Miele è un ottimo libro per chi è a caccia di una storia solo in apparenza piatta, banale, dove non succede niente. E in parte è proprio così, anche se ovviamente sarà svelato cosa c'è stato nel passato di questi due uomini, e cosa li ha condotti a odiarsi con tanta determinazione. In fondo tutta la produzione di questo autore, di cui cercherò di parlare ancora in futuro, si fonda su una rigida fiducia nella forza della parola. E tu potresti dire, beh che scoperta, è uno scrittore, in fondo fa il suo mestiere. Non è solo questo. C'è chi usa molto bene la parola per produrre una letteratura di consumo. E va bene così. E poi ci sono autori come Lindgren, che la usano per una indagine solo in apparenza personale, che ha come sfondo spesso i luoghi dove sono nati e cresciuti, ma in realtà è un'indagine che tocca un po' tutti noi. Perché ci ricorda che la parola che dovrebbe chiarire e spiegare, finisce solo col rendere tangibile e doloroso tutto il mistero della vita. Ne definisce il contorno, ma nel cuore quello che c'è dentro. Ci sfugge ancora, e probabilmente ci sfuggerà per sempre. Alla prossima, e non per la gloria, ma per il pane.